La parola al consigliere Corbetta. Con l'articolo 1 del PDL in questione si va a fare una distinzione sul valore ambientale della risorsa intaccata a seconda che questa insista su terreno edificabile a destinazione produttiva o meno. Cioè se un bosco spontaneo si è sviluppato su un terreno edificabile a destinazione residenziale mantiene il suo valore ambientale e quindi genera compensazione nel momento in cui viene intaccato. Se lo stesso identico bosco si sviluppa su un terreno edificabile a destinazione produttiva come per magia perde il suo valore ambientale e non genera compensazioni. La norma oltre ad essere infondata sotto il profilo scientifico e servicolturale è quindi illogica in sé e apre un pericoloso precedente. Infatti se un bosco per essere definito tale deve essersi sviluppato per almeno 15 anni laddove il terreno è attualmente a destinazione produttiva, mentre altrove di anni ne bastano 5, il rischio è concreto che nel prossimo futuro si vogliano zerare queste disparità per limitare la definizione di bosco a 15 anni anche in quei terreni con destinazione diversa da produttiva. E' chiaro che la modifica proposta costituisce una premessa di senso che implica la destrutturazione dell'intera definizione di bosco. E questo prelude ad un ulteriore consumo di suolo a scapito delle superfici forestali. Proprio nel momento in cui la regione Lombardia con molta fatica cerca di dedicarsi a questa grave criticità. Criticità che proprio oggi è sotto gli occhi di tutti con l'esondazione del Seveso che ha allagato di fatto mezza città di Milano. Frutto di 40 anni di una politica scelerata di cementificazione di tutto il cementificabile. Ora io vorrei fare anche un accenno al tema del terzo paesaggio, così come è stato teorizzato nel suo manifesto del terzo paesaggio nel 2005 dal paesaggista francese Gilles Crement. La somma degli spazi abbandonati dall'uomo e dove la natura riprende il controllo costituisce il terzo paesaggio. Parliamo quindi tra l'altro di terreni in abbandono, di frange urbane, di aree incolte e della vegetazione che li caratterizza. Tutte zone che costituiscono un territorio di rifugio per la biodiversità. Questa vocazione del terzo paesaggio al mantenimento della biodiversità ne fa una riserva genetica del pianeta e la sua conservazione diventa un fatto politico. Noi dovremmo puntare a dare dignità, a nobilitare questi pezzi di terzo paesaggio, soprattutto quando assumono le sembianze di un bosco, in coerenza con una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha ribadito come il paesaggio nel nostro ordinamento sia un bene primario e assoluto, la cui tutela prevale sugli interessi giuridicamente rilevanti sia di carattere pubblico che privato. Faccio un accenno velocemente all'emendamento numero 11 dove dopo le parole strumenti urbanistici vigenti sono aggiunte le parole al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Questo per evitare il rischio di future modifiche strumentali ai piani di governo del territorio. Concludo il mio intervento leggendo una breve mail che ci è arrivata pochi giorni fa sul tema. Carissimi cittadini consiglieri, sono un agente di polizia locale in servizio presso un ente parco regionale della Lombardia, sempre più indignato per la distruzione del territorio attuata fisicamente con le grandi opere regionali in nome di uno sviluppo economico distorto e giuridicamente con la progressiva demolizione delle tutele legislative dell'ambiente naturale lombardo, create negli anni 80 e 90 con una politica regionale ancora attente ai beni collettivi, operate sistematicamente dalla maggioranza PDL e Lega, Lega PDL, che purtroppo ha occupato... Consigliere Corbetta, la invito a concludere, il tempo è scaduto. Ok, grazie. Ha occupato e invaso l'istituzione regionale da circa 20 anni. Ho preso che vi siete espressi negativamente in Commissione Settima su PDL 124 vi chiedo di non abbassare la guardia su questo tema e su tutti i provvedimenti in materia di territorio, ambiente e protezione della natura. Grazie per il vostro lavoro, non arrendetevi mai all'inciviltà. Grazie.